Che succede? Dove vai? Devi finire la giornata! Perché sei una figlia del conte? Quest'anno possiamo farcela rispettare i patti, ci riusciamo! Tanto chi ci guadagna è solo il padrone. Alessandro, che ti sta succedendo? Adesso devo tirare la carretta da solo, e ne ho pieno le scatole di spaccarmi la schiena per qualcosa che non è neanche niente. E poi non devo rendere contatto. Una volta hai detto che non volevi diventare come tuo padre. Io non sono come lui. Ora non so anch'io che cos'è l'odio, perché mi fa schifo questa terra, mi fa schifo la valuta, mi fa schifo questa vita. Sei un obbligo, Dio deciderà dentro, distruggerà la tua vita. No, la cambierai, dice, perché oggi ho il mio padre, con tutto me stesso, e non voglio volire. Grazie. 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 Grazie.